L'esonero di Alberto Colombo è giunto al 45esimo minuto del primo tempo di Avellino Potenza. Il 4-1 con cui i lupi irpini hanno battuto i Lucani è stato mal digerito dal club che ha deciso così di optare per un cambio di guida tecnica. Ci sono poche scuse, poche attenuanti e inutile sottolineare tutte le lacune che abbiamo dimostrato, ha affermato il direttore sportivo Natino Varrà intervenuto in sala stampa al partenio a fine gara. Ho visto un Avellino che sembrava la Juve, ha aggiunto, c'è poco da salvare, ci hanno preso a pallonate. Colombo è il terzo allenatore, chiamato a potenza proprio dalla direttore calabrese, ad essere esonerato dall'attuale società dopo Siviglia e Raffaele. Ad oggi l'unica dichiarazione ufficiale è che la prima squadra è stata momentaneamente affidata all'allenatore in seconda Pietro De Giorgio, secondo anche di Siviglia e Raffaele, che dovrà quindi preparare la prossima gara casalinga in programma lunedì prossimo contro la Turris. Il nome in questo momento maggiormente accostato alla panchina rosso-blu è quello di Gianluca Colavitto, ex tecnico dell'Ancona, fotore del 4-3-3, ancora tesserato con i marchigiani. Colavitto però, da quanto abbiamo appreso, è momentaneamente congelato in attesa del risultato della prossima sfida contro la Carrarese, che se dovesse terminare con una sconfitta per i ragazzi allenati da Marco Donadel, potrebbe rimettere in campo proprio il tecnico 47enne di Pozzuoli. Altri nomi in questo momento non ne sono usciti, anche perché, facciamo una previsione, se De Giorgio dovesse vincere e convincere lunedì contro la Turris, potrebbe avere tutte le carte in regola, oltre che la giusta conoscenza dello spogliatoio, per rimanere alla guida del Potenza anche più di una settimana.